Il tour elettorale di Beppe Grillo fa tappa a Firenze, di Renzi non voglio parlare né bene né male, è un oggetto non identificabile, ha detto il leader dei Cinque Stelle. Sentiamo allora Claudia Mazzola. Firenze, penultima tappa per Beppe Grillo del suo tour, te la do io, l'Europa. Stamattina esce così, nascosto sotto una sorta di burca improvvisato. Gliss era unicamente a chi gli chiede un commento sulla città del Premier, risponde invece sui disordini di ieri a Roma. Il social housing è una soluzione. Abbiamo fatto già una legge per dare le case in mano alle banche, sono un milione di case in mano alle banche, ci sono un milione di famiglie che non riescono ad avere un mutuo per comprarsi la casa. Se vi andaste a leggere la legge che abbiamo fatto, social housing, vedrete che lo Stato fa da garante, fa entrare queste persone che non hanno accesso al mutuo, garantendo l'accesso al mutuo lo Stato. Il primo pensiero dal palco lo rivolge al cofondatore del movimento Gianroberto Casaleggio, operato alla testa dieci giorni fa. Siamo di nuovo in pista, rassicura Grillo, poi il solito copione di sempre, i temi dell'attualità politica e l'invettiva contro il Premier. La Lorenzo è un magnifico, a Matteo Leventino, in una maniera, che promette tutto il contrario di tutto. Io non voglio ne parlarne male, di bene, di questo oggetto, ancora non mi identificarlo. Ma contesta Renzi di promettere di fare cose che poi non fa. Capitolo secessione, una cosa seria, grida dal palco, dopo che a Padova era entrato in scena a bordo di un campo di cartone. Si combatte facendo amare lo Stato, dice. Poi contro Equitalia, fra una settimana faremo una manifestazione a Roma per chiuderlo. Ultima battuta sui sondaggi, secondo quelli seri, vinciamo noi. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.